L'intento è quello di supportare le amministrazioni locali e le forze che si occupano della sicurezza e del controllo di prossimità nel agire in termini appunto di formazione, di prevenzione e di controllo ambientale. Per cui abbiamo bisogno di soggetti, di volontari, di cittadini che compartecipino con le istituzioni nell'attività di formazione ambientale all'interno e fuori anche dalle scuole, nell'attività quindi di informazione sulla normativa ambientale per sapere anche come gestire per esempio i nostri rifiuti, come riuscire a segnalare eventuali abusi e come anche riuscire a aiutare le amministrazioni a far sì che i controlli siano davvero efficaci e deficienti. Queste segnalazioni, la necessità di avere anche un'istituzionalizzazione della Guardia Ecologica con un corso di formazione certificato dalla Regione e anche un sistema di copertura assicurativa mi è stato avanzato da diverse associazioni e volontari del territorio. che richiedono la possibilità di essere davvero aiutati dalle istituzioni nella loro attività di affiancamento in questa azione. Vogliamo istituzionalizzare questa figura in modo tale che il volontariato venga valorizzato adeguatamente, in modo tale che il volontariato dei cittadini del Veneto possa essere esplicato anche in ambito ambientale con tutti gli strumenti istituzionali corretti. Attualmente il volontario ha esattamente le stesse possibilità e capacità di un normalissimo cittadino. Può fare degli esposti, presentarli poi alle forze dell'ordine, insieme ai carabinieri forestali, la polizia locale o la prefettura o procura, nel momento in cui viene a conoscenza di azioni che possono essere intese come dei reati contro l'ambiente. Nel momento in cui questa persona potesse essere nominata guardia ambientale e quindi dotata di un decreto autorizzativo, ha la possibilità anche di fare un aspetto sanzionatorio. E questo potrebbe essere qualcosa che mette nelle condizioni di un controllo maggiore, diciamo, nei confronti di piccoli reati che avvengono sul territorio. Inoltre, che cosa succederebbe? Che nel momento in cui una persona viene adeguatamente formata, ha la possibilità di eseguire delle verifiche sul territorio soltanto per il fatto di viverlo quel territorio, per cui, mentre si trova a fare un giro in bicicletta o magari va a farsi un giro in canoa o quant'altro, vede le situazioni che possono essere legate al braconaggio ittico o, nuovamente, all'abbandono dei rifiuti o del sversamento di liquami all'interno dei corsi d'acqua, di fare una segnalazione che gode di una qualche forma di fede privilegiata nei confronti delle istituzioni. Riesce a distinguere quando questa cosa può rappresentare un reato e quindi fare una segnalazione che ha un valore o quando questa cosa, invece, rientra in un'ottica di normalità e quindi non fa perdere tempo alle forze dell'ordine. Io sono una guardia giurata ecologica volontaria, opero sulla provincia di Ferrara e sono dell'Emilia Romagna. Rissedio, però, ad Adria. Nella provincia di Ferrara siamo 86, siamo tutti decretati e siamo tutti operativi sul territorio. Nella regione Emilia Romagna siamo in quasi 600. Innanzitutto ci strutturiamo per andare nelle scuole e nelle manifestazioni pubbliche per essere visibili, per farci conoscere e per dire cosa facciamo, ma anche per insegnare l'ecologia e l'ambiente ai ragazzi delle scuole. Concretamente, sì, noi siamo agenti di pubblica sicurezza, quindi possiamo uscire sul territorio e noi non vorremmo mai verbalizzare o fare molte cose del genere, però ogni tanto può capitare.